Dalla scheda menu di AutoCAD a discesa per attivare il comando di esportazione per creare file PDF. Nella finestra di dialogo impostazioni, impostare l'indirizzo, impostare i parametri, eseguire le impostazioni di qualità e dei dati, così come le altre impostazioni per l'esportazione AutoCAD to PDF. Immettere il nome del file e attivare Salva.